Signorina, noi stiamo adesso, questa sera, vede, in questo momento, stiamo vivendo una trasmissione televisiva di una assoluta leggerezza. In questo momento, forse, forse, i temi che stiamo affrontando, c'entrano ben poco con lo spirito di questa trasmissione. Però, c'entrano ben poco, ma al contempo ci dicono anche un'altra cosa, che se questa sera voi siete qui e state giocando insieme a loro a Ciao Darwin, probabilmente questa immensa differenza che ci continuano a dire c'è, in realtà non c'è.